Il nostro obiettivo era quello di garantire un rientro in sicurezza per tutti e ancora di più per i più piccoli, vista la situazione estremamente delicata in cui ci troviamo. Queste le parole del sindaco di Castellabate Marco Rizzo dopo la somministrazione dello screening di massa. Per questo è stato per noi necessario, continua il sindaco, e urgente disporre della sospensione temporanea delle lezioni in presenza per poter avere un quadro generale dell'intera popolazione scolastica prima di permetterne il rientro in classe. Questo screening, espressione della ferma volontà, responsabilità, concretezza e consapevolezza dell'amministrazione di cui sono guida, si è rivelato necessario e utile all'individuazione e all'immediato isolamento della positività riscontrate, che altrimenti avrebbero con certezza determinato nuovi contagi all'interno della scuola. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che si sono con fermezza impegnati. Abbiamo sperato che i risultati di ieri fossero più incoraggianti di quelli dell'altro giorno. E così è stato. Infatti su 204 tamponi effettuati, due hanno avuto esito positivo. Si tratta di dati assolutamente incoraggianti che garantiscono un rientro a scuola in piena sicurezza. Oggi infatti sono riprese le lezioni in presenza per tutto l'istituto comprensivo di Castellabate. Augurando un buon rientro a scuola, sempre con grande consapevolezza e responsabilità, ricordo a tutti di comportarsi con massimo rigore nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti per evitare la diffusione del virus.